Musica Il tipo per il Giugrano, mr. Theo posso dire straordinario non sto scherzando perché io salendo ho detto ma dove stiamo andando nel senso che era un posto su questa collina poi arrivi e sembra di stare hai copiato un po' Briatore no? no è bellissimo poi è intelligente mettere la tranquillità legata allo spettacolo alla natura no? a me mi appassiona sia vedere il posto sia vedere quello che fate che cosa ci racconterai stasera Teo? no se noi facciamo uno spettacolo siamo più bella cosa non c'è e tocchiamo un tema tocchiamo tocco un tema che parla chiaramente comico di quelle che sono le separazioni ora lui lo sa insomma chi mi ha chiamato sa quello che faccio che ricordo hai dell'ultima volta che sei stato al Giugrà? ah io sono venuto tre anni fa giusto? tre anni fa e ho detto ma che posto hai questo è stupendo ho visto che facevo dei spettacoli ho detto mi piacerebbe lavorare qua ho conosciuto lui e a distanza di tre anni quando sono arrivato lui mi fa ma ti ricordi di me pensa tu e mi sono ricordato tutto perché sapete qui sono venuti anche i Poo giusto? sono venuti un sacco di artisti abbiamo parlato il più e del meno è straordinario e con lui siamo venuti proprio qua dove siamo adesso proprio per vedere questa arena questa situazione qui sopra e disse guarda mia intenzione è fare qui un grande evento e quindi poi allora lui disse organizzati eventualmente ci vediamo più in là quando sarei pronto per l'evento ed eccola qua distanza di tre anni è vero perché io gli ho detto è bello il palco di qua però fai anche degli eventi qua girati che qui c'è una natura perfetta e oggi l'ha realizzata questa cosa ok perché proprio Teo Mamuccheri vieno? beh perché Teo Mamuccheri lui è un grande sono io perché lui è un grande a me io ho visto il suo spettacolo qualche mese fa mi ha divertito così tanto e quindi ho detto Teo dobbiamo per forza quest'estate farlo da me perché è bellissimo insomma vedrete stasera dopo non vi pentirete sicuro di questa serata è molto 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 bello e poi Teo è un grande quindi no diciamo che è venuto a vedere lo spettacolo a Mestre giusto? a Mestre gli è piaciuto molto e mi ha detto perché non lo fai da me e mi ha detto certo volentieri questo vai salutiamo ragazzi in bocca al lupo giucherà tutta la vita grande ciao grazie eccolo buonasera 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 non c'avevate niente da fare io non vi vedo però puoi eliminare ah c'è il pubblico mazza ragazzi guarda che servono tre davanti cioè voi siete partiti da casa per venire qua tra un po' piove lo sapete allora io prima di cominciare voglio ringraziare il mitico che ha organizzato questo posto che è bellissimo eh perché per salire di tutte queste casette dico ma dove cazzo stiamo andando? allora lo spettacolo è tutto così sono insulti alla gente e io esco di insulto così no no allora grazie quando siete pronti non partiamo vi va? bene salutiamo la signora che sta col cellulare un saluto ecco stavo scherzando stavo scherzando lei carina anche il signore tutto così lei lo fa lo spettacolo una volta la gente mi fermava ciao teo che piacere conoscerti adesso no facciamo la foto facciamo la foto io sono la barletta tu coglioni cioè ho suoni siete molto più civili è bellissimo barletta ragazzi una roba oh la foto facciamo la foto la foto la foto e ti fanno ti acchiappano ti tirano ma che cazzo io faccio così invece qua c'è la signora che ti bacia che mi ha anche toccato la signora mi ha detto la signora lei ha fatto ho fatto maria maria no scherzo posso essere due figlio sai quanto me ne sono trombate delle rastruzioni stavo scherzando non ti cazzare la signora la più bella cosa non c'è perché oggi vi parlerò della mia storia d'amore cioè la cosa che ho vissuto nella vita privata perché tanti anni fa o meglio 15 anni fa incontro una donna di 21 anni io 43 un coglione e lei mi guarda e mi dice oh dammo un vaso gustoso ci diamo un bacio e lì mi riscatta la gazzola mi dico ma che so frizzanzato io con una di 22 anni meno di me ma so bello che figo distancia e mi dice voi conosci i miei genitori e dove stanno a Roma a Milano no un Brasil in Brasile io vengo in Brasile con te sì in Brasile cioè io ti ho appena conosciuto mi sto innamorando di te 22 anni di meno brasiliana stupenda e sto partendo per il Brasile con te chiamo il mio miglior amico e dico ma no sì ascolta ho conosciuto una bellissima mi dice ma di dove è è brasiliana ah quanti anni c'ha è simpaticissima teo quanti anni c'ha no e la ti conosci è simpatica e quando gli ho detto 22 mi ha detto ma che sei scena ti ha visto su internet se vai in Brasile ti aspettano con la banda non ride vaffanculo sto raccontando la tragedia ride oh il coglione che cazzo senti è una tragedia e secondo voi io che cosa ho fatto sono partito come un coglione su gli ormoni abbiamo preso l'aero zio l'aero è pericoloso ecco ragazzi che mi parla stiamo partendo per fuori a Napoli arriveriamo fra 12 ore e io pensavo fra 12 ore ma dove cazzo stiamo andando a lei ma davo un bacio costoso ma perché sono andato in Brasile e la cosa che è bella che quando arrivo come scendo all'aeroporto ma vedi che figata mamma arriva un sorso dico ma qui non è come un studio qua si divertono ma vedi che posto e cominciano a vedere questi che figata è il Brasile vanno davvero le valigie mi dà le valigie quello mi dice un giro tu già questa è la tua questa per tu ma che mi fia più di una mignotta è la mia ragazza è venuto uno mi ha detto te una volta a vedere il Titanic va a piangere l'avete visto il Titanic è bello io sono entrato a vedere il Titanic il film inizia che lei che stava curo ricco gli ha regalato un diamante così si vuole ammazzare sale sul bordo della lalla voglio morire e arriva lui biondino che non la conosce e dice fermati se lo fai tu lo faccio anch'io ma che cazzo stai a dire ma non è vero sarò io e dice la ciccio a te fa un po' come cazzo di fare mori te lo dico e le donne entro al cinema ma vedi se te saresti ma puntato per me e noi uomini no ma sarei buttato ma che cazzo si è buttato la vede questa la scena con le manette lui legato con le manette l'acqua gelata fino a qua qualcuno mi saldi arriva lei eccomi ti stavo io prendi l'accetta lei apre l'armadio prende l'accetta che ce lo fa è tanta faccia che ce lo fa non sono capaci e lui gli dice però va prima con l'armadio lei fa così se sbaglia del vetro e mezzo e lui gli fa va culo che è meglio c'aveva uno spazio così caso lei chiude gli occhi boh rompe le manette si alzata un tercino ma oh papà tuo un grosso un grosso 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 applauso a te grazie a voi grande grande teo grazie 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 simone caglino grazie a tutti grazie a tutti